Ciao, mi chiamo Damiano Pichi, ho 33 anni e vivo nel tredicesimo municipio fin da quando sono andato. Sono entrato a far parte in maniera propositiva del Movimento 5 Stelle dalla fine dell'aprile del 2012 perché volevo dare un contributo a questa società, in quanto vorrei vivere in una città dove l'amministrazione avvolga la sua attenzione verso la felicità dei suoi cittadini e penso che in parte si possa raggiungere migliorando la qualità della vita attraverso una migliore mobilità e una migliore politica anche turistica che parta dall'offrire un turismo anche cittadino. Perché dico questo? Perché oggi come oggi a causa delle grandi distanze e di una cattiva gestione del trasporto pubblico potersi muovere dentro Roma ci costa tempo e salute. Quindi se noi avessimo dei buoni mezzi potremmo risparmiare tempo e soldi che poi potremmo reinvestire per noi stessi avendo appunto del tempo libero che potremmo dedicare se avessimo un turismo capillare su tutto quanto il territorio quindi con attività patrocinate dall'amministrazione dove una persona può anche dilagarsi e crescere culturalmente. Volevo ringraziare il Movimento per l'opportunità che mi sta dando e spero di poter contribuire sempre e comunque sia all'interno che dall'esterno. Grazie. Grazie. Grazie.